Il tempo è scaduto e Piacenza ha inviato al Ministero il dossier per candidarsi come capitale italiana della cultura nel 2020. Il documento presentato dal Comune si intitola Piacenza Crocevia di Culture. La proposta prevede nel corso del 2020 un calendario settimanale che comprenderà oltre 50 appuntamenti. Tutte le realtà produttive e culturali sono coinvolte. Quali sono le carte che può giocare Piacenza per tentare di entrare nella shortlist che il Ministero dovrà individuare? Piacenza è una città che ha delle eccellenze, non ha delle cose stratosferiche. Piacenza è sì la città dei grigi di Armani, ma Piacenza è la città dove Verdi decide di finire la sua vita. Piacenza è la città dell'agraria che ha riscritto l'agricoltura piacentina. Piacenza è la città che ha il maggior numero di grandi palazzi tutelati dalla sovrintendenza. I castelli venivano fatti fuori, ma Piacenza si veniva per vivere bene. Una storia che va dal Medioevo, che va dal periodo romanico, che si incrocia. Una Piacenza dove si doveva prima passare obbligatoriamente, invece sarà una Piacenza dove sarà un piacere e fermarsi per poter vivere bene e poter respirare un'aria, una cultura positiva. Ora parte il conto alla rovescia per sapere se la nostra città entrerà a far parte della lista delle dieci candidate. L'esito è previsto tra due mesi.